Ciao a tutti voi da questo video di Magistro Lotus, oggi facciamo un recapino del Metamodern perché questa settimana abbiamo fatto uscire tanti video parlando di investimenti per quanto riguarda carte di MH3 che stanno cambiando la struttura del formato. In questo video ce ne saranno anche altre due collegate a due mazzi finali diciamo più bonus, però è un recap anche generale per vedere un po' come è la situazione. Ogni fine settimana bene o male facciamo questo video di appunto recap dei tornei, se oggi facciamo un recap di meta che ci sta. Allora, prima di cominciare e parlare a fondo di queste due cose vi invito a lasciare mi piace, commentare, iscrivervi al canale e soprattutto abbonarvi, è la maniera più diretta per sostenerci. Inoltre vi ricordo il nostro sponsor fantasiastore.it che qua davanti vedete il loro sito è molto fornito, sono molto 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 veloci, 24-48 ore alla spedizione e soprattutto con noi avete il codice sconto, l'Otos 5, qui dal 5% di sconto sui prodotti non già scontati, quindi daje approfittatene. Allora, altra piccola precisazione, bonus per chi ci guarda tutto il video, o per i più furbi che schippano al fondo ma non sapete dov'è il punto, quindi dovete poi fare fatica. Dirò anche due carte che stanno un po' salendo nei deck bonus che appunto dico al fondo e una anche contenuta in un secret layer perché sappiamo già che ci sarà come bonus per quanto riguarda Monty Python, uno dei due secret layer di Monty Python. Detto questo, cominciamo. Allora, il metamoder si sta dimostrando al netto di NADU abbastanza variegato. Comunque NADU si assesta, se guardiamo, il meta generale sul 15%, giù di lì, non è esageratamente presente, non è come tipo in Legacy o come è stato addirittura in Pro Tour, nel Pro Tour è diverso, in cui era il 25% del meta, quindi altissimissimissimo. Per fortuna, diciamo che per più motivi, il mazzo non è super ultra mega rappresentato, anche se è il più giocato. Penso che un po' infulisca il fatto che la gente sa già che NADU se ne andrà, adesso che è molto scoraggiata nel giocarlo e quindi anche nel testarlo. Quindi magari nelle leghe e nei tornei così la gente non lo porta più di tanto, non lo testa proprio di continuo. E invece, per quanto riguarda i tornei importanti, la gente lo porta perché vince. Oddio, questa è un'analisi un po' non oggettiva, è un parere mio, potrebbe essere come non essere, però il fatto sta che i dati ci dicono che vedete qua 15% meta mettendo 14 giorni. Allora abbiamo i NADU, sia così che versione 4 colori, i GESKY, anche loro rimasti tantissimo presenti, molto molto forti, praticamente EUV controllo e splash a rosso per avere la discharge, la galvanica discharge, quindi un po' di tematica energia, più anche flash, come diavolo si pronuncia, flash, sì, PH, flash, che è il titano Boros. Poi, i mazzi che più stanno facendo parlare di sé in questo momento sono i Boros Energy, cioè i Boros X Energy, perché si gioca o Boros o Mardu. Mardu, praticamente sono mazzi di energia che si basano sul Ampter Raptor come cascante, perché ti permette appunto di giocare le spella gratis, usando però le energie. Sostanzialmente, se tu lo fai a zero energie, giri dalla cima e puoi buttare giù un drop a 2 al massimo, perché devi pagare il costo in energia, se ne accumuli puoi buttare giù quello che ti pare. Il mazzo è montato in media ad avere come drop massimo un drop a 3, quindi sostanzialmente puoi magari fallire la prima volta, se è proprio di sfortuna, ma difficilmente, perché comunque la parte del mazzo non ci sta sotto. E non è neanche detto, perché se cominci con la partenza a strappo con la Guide of Souls, riesci a avere già tre energie anche turno 2, e quindi riesci a fare tutto, praticamente tutto quello che ti interessa del mazzo. L'unica sfiga è quella di bloccarsi un po' con i drop, non so, può giocare carte con drop a 4, perché rischia poi troppo di non avere le energie sufficienti per lanciarlo subito, con un Ampraptor tirato così di secondo. Mononero, altro mazzo che è molto presente, ci sarà poi una seconda versione che vi metto nei mazzi bonus, praticamente sono mazzi che si basano su, dove è finita? La Necrodominance, questa magari, eccola qua. Praticamente noi vogliamo pagare anche una roba come 15 vite, pescare 15, perché tanto abbiamo tante carte a instant da tirare a 0, che sono principalmente, vabbè, le flare ovviamente, ma la più importante di tutte è lo solo spike. Solo spike, perché è facilissimo castare a 0, perché devi esiliare carte alla mano. Il flare dobbiamo avere delle creature, è già più complicato, però è una spell a 0 comunque molto forte, abbiamo tante creature piccoline a saccare, ma la più importante è solo spike, per due motivi appunto, basta avere le carte in mano, quindi tante carte nere che non ci servono più in mano, le abbiamo perché abbiamo pescato magari 10-15 carte, e in più fa 4 danni dove ci pare e guadagniamo 4 vite, quindi ci ridà indietro 4 delle vite che abbiamo speso per pescare. Considerate che se avete pagato, in mezzo si paga anche 10 vite, pagate 10 per pescare 10, vuol dire che vi siete ripagati di 4 pescate. Poi per carità, sì, ci è andata a perdere delle carte, perché se lo spike dovete farlo rinunciando a lei, ovviamente, perché lo usate, più altre due carte nere per forza, quindi non terra e altre cose che magari sono meno utili in late game, mid to late game, ma proprio delle spell. Però considerate che talmente siete andati avanti, perché appunto avete pescato tantissimo, che non è un problema. E considerate che questo è anche un mazzo che manda facilmente al top deck l'avversario, appunto con carte, come gli scartini, Inquisition, Toxys, compagnia cantante e Griff soprattutto, perché alla fine questo, alla fine della fiera, è un mazzo scam. Infatti vuole scammare la Griff, lo fa con Malachy Rebirth, poi alcune liste hanno magari anche altri scammini, dipende un po' da come lo si vuole giocare, però quello di base è un mazzo comunque che scamba volendo, e ti pulisce la mano, poi appena ha la strada libera per fare una Necropotence, da lì tira tutto quanto. Questo è un mazzo incredibilmente forte, e ci sarà anche un'altra versione mono nero dei mazzi bonus, che adesso vi descriverò poi al fondo. Goros Vengeance, anche bello forte, perché comunque i mazzi vanno molto all-in, e quindi non c'è chissà che interazione incredibile sul nostro piano, ma soprattutto anche questo di nuovo è un mazzo scam, quindi vedi di nuovo la tematica. Alla fine, se si riesce a scammare, si riesce a fare tutte le strategie, perché ti pulisci la strada per poter fare la stagia rotta. La stagia rotta di Monnero cos'è? Fare Necrodominus, pescare 15. La stagia rotta di Espergorio è fare Rianimo Atraxa, Rianimo Grisebrand. Però se la strada è pulita, perché ho fatto gli scartini, ho fatto la scammata, quindi che alla fine della fiera sono scartini, perché faccio griff con Ephemerate, o così via, e io la strada ce l'ho pulita per forza, quindi tu non avrai la risposta perché te l'ho tolta, sei obbligato a topdeccarla, e quello è un problema, perché praticamente non è più un gioco, un giro alla ruota, la fortuna diventa più padrone del game per quanto riguarda cosa deve fare l'avversario, perché se pesca la soluzione bene, riesce magari in qualche modo a ribaltarlo, comunque non morirci, però se no, ciao ciao. Considerate che poi alcune carte come Atraxa e Grisebrand finiscono la partita direttamente magari on the spot, perché anche se mi trovi una soluzione per Atraxa o Grisebrand, comunque io ho pescato 7 carte con Grisebrand, ho pescato di meno carte in media con Atraxa, magari 3-4 carte, però le ho selezionate, quindi non ho pagato le vite e ho selezionato le carte che voglio dalla cima, quindi diciamo che è più umilata. Psychic Frog, anche se è fortissimo in questo mazzo, ed è una staple ormai in due formati, sia qua che legacy. Psychic Frog fortissima, è una carta incredibile, è anche un mazzo che non è bonus, ne parlerò a breve perché ci tengo a parlarne, è una bella staple, una carta incredibilmente forte, aiuta a Mazzy and Fair, aiuta a Mazzy Fair, aiuta a tutti, davvero bella. Ha spinto tanto di nuovi Dimir. Dimir in Modern, prima della stampa della Psychic Frog, era molto sul downtrend, non si giocava praticamente più. L'unico mazzo che giocava i colori Dimir, praticamente in maniera fissa, era Esper Gorion, perché Esper contiene Dimir ovviamente, tricolor, però diciamo che in altre strategie, in altri mazzi si preferiva giocare varianti che non lo... cioè varianti non Dimir, magari Izzet o altro, e quindi questo ha spostato tanto. Infatti, se andiamo a vedere poi il meta, abbiamo anche Dimir Murta, è qua un pochino più in basso questo mazzo, allora, questo è praticamente il Murta e il Moderno, antiche giocare appunto Izzet gioca questo per motivi, uno, i threat sono molto molto più adatti per il meta attuale, Bowmaster punisce tanto chi pesca con The One Ring, che è una delle carte staple del formato, The One Ring non l'ho citato, vabbè, però lo sapete certamente, ma praticamente tutti lo giocano. Bunt è un mazzo One Ring, Jeskai è un mazzo One Ring, Moro Black, Midrange, ha Necro Dominance, ma è un mazzo One Ring, e comunque pesca le carte con Necro Dominance, perché a differenza della Necropotence, non aggiunge le carte in mano alle pesche, quindi Bowmaster è fortissimo. Poi, Tron è un mazzo One Ring, Eldrazi Tron volendo un mazzo One Ring, cioè, tutti quanti giocano The One Ring, perché è facilissimo metterlo, infatti dalle percentuali che ha, sarebbe una carta da ban, però, perché anche nei video di ban di Modern, non vi parlo di The One Ring, perché sento che la Wizard è molto tubante a bannarlo, sento che la Wizard è davvero molto 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 tubante a toccare le carte del Signore di Anelli, per motivi vari, ovviamente commerciali, preferisce tenerle, ma anche perché effettivamente due carte spingono tantissimo le vendite, le vendite dei prodotti del Signore di Anelli, sono The One Ring e Orcs Bowmaster. Poi, attenzione, per carità, ci sono anche i ciclini, tante altre carte fortissime, perché è un set straordinario quello del Signore di Anelli, ha davvero tante carte che sono interessanti e forti, però, cioè, per esempio, una delle carte meno forti, ma comunque interessantissima è Sauron's Ransom, che è fortissima comunque, cioè, è un fact of fiction con dei bonus. Ecco, capite che però, per eventuali, magari, reprint di prodotto, o comunque per come si è imposto The One Ring, come modello di carta, cioè, carta incredibilmente forte, ricercata in tutte le sue versioni, c'è addirittura quella, beh, che ha preso Post Malone, una di uno, c'è tantissime cose, dal punto di vista commerciale, bannarlo è dura per loro, eh, è davvero, sarebbe un durissimo colpo. Quindi per questo non ne parlo, perché secondo me, a meno che non diventa avere una piaga incredibile, che un po' lo è, un po' lo è, per carità, lo ammetto, lo ammetto, si vede, i dati sono quelli. Non lo so, io sento, sono molto restio, secondo me, cioè, sono molto resti loro a farlo, e quindi secondo me, non lo toccheranno. Comunque, di nuovo, tornando al discorso di Mir Murtite, ha i treti migliori, ha la Psychic Frog, che è un trete incredibile, ha il piano Murtite, e soprattutto, il nero, ti dà delle interazioni migliori, appunto, con, volendo gli scartini, Drone in the Lock, le removal più forti, fatte al push, perché ormai le creature, sono leggermente più grosse, quindi, tendenzialmente, è meglio pusharle, che farci Anolit, che per carità, Anolit, devo caricarlo, devo avere abbastanza cose, eccetera, ma più che Anolit, Lightning Bolt, e così via. Questo mazzo, tra l'altro, l'aveva portato, al Pro Tour, aiuta Takashi, era andato anche abbastanza bene, mi sembra, abbia fatto sette, tre totali, il mazzo era molto, molto, molto figo, infatti, l'hanno citato, nei mazzi più spicy, del Pro Tour, abbiamo fatto anche un video a riguardo, e ad oramai, questo mazzo, la gente lo sta giocando, e lo sta provando, ma perché, chi giocava a Izzet Murtey prima, in media, è molto affissionato, nel senso che, è come il Jund di moda, nei vecchi tempi, il Boomer Jund, cioè la gente, finché è rimasto decente, un minimo in meta, l'ha sempre giocato, e qua è la stessa cosa, la gente, finché Dimir, Dimir, o Izzet Murtey, sarà abbastanza in meta, loro continueranno a portarlo, perché sono, molto affezionati al deck, però che comunque, ragazzi, non ha, cioè le risposte le ha, può giocare, in grande quantità, che questo è il counter del momento, infatti, sta salendo di prezzo, Marco, ve l'ha fatto il video, ve l'ha indicato, perché, in questo momento, i drop a due, ma pagati davvero due mana, quindi che hanno costo di mana convertito due, sono tantissimi, quelli da conterrare fortissimi, uno ve l'ho citato, Orchish Bowmaster, e il secondo, invece, è presente, anzi, secondo è il terzo, sono presenti le strategie energy, che sono, Ajani, e, Lampdraptor, perché entrambe hanno delle trigger, in entrata, cioè, Lampdraptor non è sul, sembra cascata, ma non è, perché è all'entrata, non è al cast, Ajani, se entra, fa disastri, perché, appunto, spazionare fortissimo, per queste carte, non le vuoi distruggere, vuoi proprio che non entrino, perché se entrano, fanno di due per uno, Ajani, se entra, c'è il rischio, che lui possa essere flippato, in risposta, da qualcosa, perché se flippa, se muore un altro gatto, il gatto lo fornisce, Ajani stesso, quindi, soprattutto con le carte, che vedremo, poi, anche nel, nel bonus, nei due deck bonus, vedremo che, Ajani non deve proprio entrare, è un disastro, e, Amped Raptor, se entra, punto per uno, perché mette due carte, mette se stesso, e un'altra carta, e quindi, ok, io, magari, faccio la remuncia, anzi, non sono neanche incentivato, a farci la removal, perché è un 2-1 del cavolo, che non fa niente, dopo una volta che è entrato, muore dal ping, di Bowmaster, non mi interessa, mi interessa che non faccia, la seconda carta, un 2-1 vanilla, una volta che entra, è gestibile, fare l'ulto, un'altra carta, è un altro discorso, e, quindi niente, questo è l'idea di base, cioè che Spellsner, è davvero un'ottima carta, in questo momento, e qual è il miglior mazzo, Spellsner, in questo, in questo preciso momento, in cui appunto, Spellsner, è sotto un ciclo, che è la carta forte, e, e questo qua, appunto, il caro, Dimir Murtai, Dimir Murtai, tra l'altro, ha una bellissima combo vecchia, con la Deep Analysis, e Psyche Frog, che ricorda molto, lo psicoatogo, quindi può sicuramente, piacere molto, ai nostalgici, e, poi, tornando sempre a vedere, gli ultimi altri mazzi, a me c'è anche Rubi Storm, che è un po' sul downtrend, ma, rimane un mazzo fortissimo, questo è stato il primo mazzo, che la gente chiedeva il ban, ma, perché non ci si adottava, molto, anche qua, Spellsner è forte, perché impedisce l'entrata di RAL, e anche altre carte, che sono appunto, i vari impulsi, perché comunque costano due, quindi tu ci puoi fare Spellsner, e l'altro rimane fermo, e, sta provando ad adattarsi, mettendo chiusure varie, alternative, carte che fanno un po' value, come quest'indruid, mazzo forti sicuramente, però, non, non da ban, come era stato chiesto magari, dal punto all'inizio, e Tron rimane anche sempre fisso, però, modificato, oramai Tron, la versione classica, non è più adatta, si gioca oramai questa, che gioca appunto, Devour Destiny, per riuscire a mettere, a posto, l'inizio del game, e le pescate, per questo è un mazzo, che deve stare un bel po' fermo, per accumulare le terre, e il mana, quindi ha bisogno di avere, delle pescate dritte, e poi tanti pezzi di Stax interruzione, Disruptor Flute, Trinisfera, e tutti i pezzi di Stax messi inside, da recuperare con Karn, The Great Creator, e non mi convince ancora troppo l'Emrakul, sinceramente, perché adesso c'è questo qua, questa lista gioca questo qua, Promise Land, quindi quello vecchio, ci sono liste moderne, diciamo, più vecchie, moderne, che non lo so come chiamarle, perché è un misto, moderne ma non troppo, quindi quelle portate al Pro Tour, per dire, che giocano l'Emrakul nuovo, con la combo, combo, sinergia, The Underworld Cookbook, quindi praticamente, il Cookbook lo puoi prendere con Urza Saga, ti autoscarti l'Emrakul, così da pagarlo 6 mana, e non pagarlo 12, farlo 6 mana è molto buono, ovviamente, non lo so, mi convincono poco, tutti questi Emrakul che girano, mi convincono forse di più, i classici pezzi che giocava prima Tron, quindi, Ulamog, comunque si incontriamo a giocare, Ulamog mette quello 10, e non quello nuovo, due pezzi esiliati, è molto più forte che esiliare Metamazzo, e poi togliere eventualmente, tanti permanenti all'altro, sull'attacco, senza rapidità, quel Ulamog non ha senso, infatti, nelle versioni, True the Bridge, ha senso giocare l'Ulamog nuovo, perché tu lo metti rapido, entra grosso, e riesci in qualche modo a far, magari, un annichilire, bello imponente, però, il concetto di base, se invece lo cassi fair, è meglio l'altro, questo mi prendo giusto, per farvi vedere, le versioni True the Bridge, invece, praticamente, sono più delle combo, devo accumulare del mana, dopo ho accumulato tanto mana, o stallo, grazie a The One Ring, che mi promette avere più tempo, pescare, cercare i pezzi della combo, faccio un True the Bridge, ti metto giù, o Ulamog del Defiler, il primo pezzo, non lo fate, quello di macinare Metamazzo al Loppo, perché è solo sul cast, ma non mi interessa, perché il pezzo, che va a vedere, le carte esiliate, cioè che Ulamog entra, e se becca segnalini più 1 più 1, pari al costo della carta, più grande in esilio, lo fa a prescindere, perché lo fa quando entra, entra già direttamente con quelli, è una statica, quindi il fatto che non lo cassiate, non è un problema, perché True the Bridge appunto, lo mette direttamente in gioco, e poi ovviamente, l'altra statica ancora, ha anichilire X, dove X è quanti segnalini più 1 più 1 ha, è quello, lo fate anche lì in automatico, e quindi questo lo rende, davvero incredibilmente forte, per mazzo del Bridge, perché a questo punto avete, Emrakul e Ulamog, che fanno praticamente quasi la stessa cosa, cioè entro, ti attacco di tantissimi danni, rapidi, con anichilire grosso, cioè Emrakul, ce l'ha da 6, Ulamog ce l'ha altrettanto grosso, e uno potrebbe dire, ma Isma, se le carte in esilio, come fanno, visto che non ne mettiamo tante, no, questo mazzo ne può mettere le carte in esilio, perché avete, The Valor Destiny, The Valor Destiny, cosa fa? Se ci avete in mano iniziale, lo rivelate, e guardate, alle prime 4 carte del Grimorio, ne potete prendere, una, e metterle in cima, e esiliare il resto, questo vi aiuta tantissimo, perché, se avete già la combo assemblata, magari, gli Emrakul in più, e Ulamog in più, non li volete, togliete un Emrakul, che tanto ne avete 4, e avete in esilio, una carta, che dà più 15 al, all'Ulamog, a parte che fa one shot direttamente, perché diventerebbe un 22-22, ma vabbè, però, in caso anche non bastassero 22 danni, comunque fa un anichilire 15, invece, parliamo, ecco, cioè, è morto in ogni caso, e quindi, mettete voi, la carta in esilio, perché non va a vedere solo quelle dell'oppo, ma a vedere le carte in esilio, in generale, quindi, not freaking bad, eh, niente, in generale, questa la, il mazzo, questo è anche molto, molto forte, ed è abbastanza presente, e, qual è la sfiga per il quale, che non è altissimo, non sento ve l'ho descritto così, positivamente, è il fatto che, gli altri fanno cose più rotte, cioè, se beccate mono nero, vi smonta sempre la mano, e siete un mazzo che, non potete vincere al top deck, perché, siete a mano vuota, through the bridge, pescate, e non c'avete niente da buttare, con through the bridge, quindi, è inutile, pescate il ciccione, è stessa cosa, cioè, il senso è Emrakul, Ulamo, quello che vi pare, e di nuovo, siamo appunto a capo, non avete through the bridge, l'unico modo per ammazzare i mazzi, così, che fanno molto scarto, è avere one ring, che comunque lo giocate, per carità, one ring, pesco, 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 pesco in maniera massiva, quando arriva, faccio un'attivazione, da almeno due, pesco due carte, through the bridge, Emrakul, te lo gioco, un morto, però, di nuovo, capite che è tutto un, un seum, perché l'altro ci impedisce di giocare, tranquillamente, colpendoci direttamente la mano, o, l'altro motivo, sono mazzi, che sono troppo veloci, energy, se tu non gli metti pressione, ti picchia straveloce, non sembra, ma la guide of soul, fa picchiare tantissimo, due segnalini, pagando te le energie, perenni, volare, incredibile, mette tanti pezzi, ti mena, fa botti, è velocissimo, un mazzo agro davvero veloce, nadu, se non lo disturbi, scomba velocissimo, perché tanto fa i pezzi, basta che fa nadu, uno sciuco a caso, triggera un po' di volte, gg, fanno cose, e ruby storm, beh, forse il combo più veloce del formato, quindi, c'è quella problematica lì, bene o male, questi sono le mazzi, che volevo presentarvi, che sono secondo me, quelli più adatti, quelli più del momento, tenetevi d'occhio, questo è il recap del modern, passiamo ai due deck bonus, che vi presento, uno è una variante, cioè, Mardu Energy, ma che gioca una carta, molto molto spicy, che è Goblin Bombardman, quindi, grazie per chi ha assistito, fino a questo punto del video, o è stato bravo a schippare, a trovare il punto corretto, Goblin Bombardman è molto forte, allora questa è un'introduzione, che, cambia molto il mirror, allora, chi fa il Goblin Bombardman, ha due grossi vantaggi, uno controlla molto il bor dell'altro, perché può sacrificare i token, fatti da Ocelot, da Gianni, eccetera, o anche da Bohmaster, altre carte, per togliere le creature all'altro, perché ha una fonte di removal sempre, quindi toglie le tue creature chiave, e io me le tengo, che sono appunto a Gianni, il Bohmaster, il Bohmaster non token, e così via, quindi, io a quel punto, perché controllo il board, sinergizza bene, con la marionetta Apprentice, che è praticamente un Blood Artist, detto in parole povere, che mette anche un token, volendo, quindi, molto, molto forte, perché fai anche dei danni, sulle vite, cioè, gli avversari perdono punti vita, e quindi fai una specie, di mini meccanismo, di aristocrats, puoi anche giocare carte, con Villager Ice, per pescare più carte, rifare il gas, Ktonian Nightmare, che appunto riprendi pezzi, che tanto li hai sacrificati, e anzi fai value, per questo punto, magari sacrifichi il Bohmaster, e poi poterlo rianimare, quindi rifare l'effetto, così spari, due danni in giro, uno per aver sacrificato il Bohmaster, e uno per averlo giocato, e, o anche addirittura, continuare a riproporre a Gianni, e continuare a fare eserciti di gatti, fare un casino di robe, considerate che, e tra l'altro in alcun modo, parlando di Gianni, adesso come lo introdotto, per flippare a Gianni facilmente, perché potete, se avete il Goblin Bombard, sacrificare subito il gatto, flippare la Gianni, e proteggerlo, attivarlo subito, in base al matchup, se l'altro matchup che interagisce, potete sacrificare, l'altro non potete andare a Mugol, perché sacrificate la risposta al gatto, e flippate a Gianni, e quindi l'altro, il suo push su a Gianni, o quello che è, si attacca, o un'alternativa, appunto, lo flippate subito su matchup, perché l'altro non interagisce, avete subito il placewalker, e tra l'altro, seconda cosa, Goblin Bombard è un permanente rosso, quindi fa triggerare facilmente, la seconda abilità di Gianni, perché per farla completa, se l'avere un permanente rosso, sempre per terra, che se sia una creatura, è facile magari ucciderla, risposta e farsi cacciare, e non lo faccia, con Goblin Bombard, visto che un incantesimo, è estremamente più complicato, e questa carta sarà presente, come bonus, infatti ve lo detto in questo video, come carta bonus, per quanto riguarda Monty Python, che sarà Cow Bombard, praticamente lancia le mucche, che i Goblin, e ovviamente è un'area skin, non è un'altra carta, cambia solo il nome, per flavor, ma il nome conta come Goblin Bombard, ed è una carta, che può salire tanto di prezzo, perché non è solo giocata, in modern, adesso sta iniziando a giocare, tanto in modern, e sta iniziando a imporsi, e bisogna vedere appunto, quanto durerà, ma anche estremamente, giocata in commander, è una carta incredibile, quindi ragione in più, per comprare, il secret layer, che usciranno lunedì, mettetevi la sveglia, ricordatevi, fate quello che volete, se vi servono e vi interessano, è un prodotto da comprare, e quindi approfittate, se no poi piangete, che non lo trovate più, o dovete comprare, le carte sul mercato secondario, quindi molto più care, poi, secondo mazzo che vi presento, è, mono nero, ma sacrifice, praticamente, usa Soul Trader, come combo, abbiamo già detto, che Soul Trader, scomba praticamente, con mille carte, basta che le metti, un panino al prosciutto, una tazzina di caffè, lei scomba, fa una combo classica, con il Grey Clower, praticamente come funziona, tu hai, la War Soul Trader, che ha già uno zombie, di per sé, più il Grey Clower, quindi, tu puoi sacrificarlo, per creare un treasure, e poi il treasure, rigiocarlo, quindi, praticamente, puoi andare avanti, pari ai punti di vita, che hai a questo punto, perché, la Soul Trader, ti costa un punto di vita, attivarla, fare questa cosa, come possiamo quindi romperla, tutto questo processo, e renderlo infinito, o comunque, guadagnarci qualcosa, basta mettere una carta, che faccia Blood Artists, quindi, il Blood Artists classico, o volendo, la Barionet Apprentice, che appunto, fa perdere un punto vita, all'avversario, ogni volta che c'è questo processo, però non dà vite, non dà vite, e quindi, anche qua bisogna fare un po' attenzione, a calcolare, i danni che beccate voi, i danni che beccano, becca l'altro, perché sennò, poi rischiate appunto, di morire prima voi, perché pagate prima la vita, per attivare, il lavoro, la Soul Trader, e quindi, il danno, ve lo beccate prima voi, ma in generale, comunque, visto che noi siamo un mazzo aggressivo, che picchia, perché ha tante creature piccole zombie, siamo in grado di sfruttarlo meglio, rispetto all'avversario, quindi vincere comunque in quel modo, c'è da dire, questo è un mazzo, che è comunque molto, 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 molto resiliente, perché ha, Tony and Nightmare, che è perfetto, perché abbiamo tante creature piccole, da sacrificare, che siano token, siano zombie, e quindi possiamo sempre ricercarsi, ricercarsi, il pezzo perfetto, da poter tirare, è anche un mazzo Birding Ritual, quindi, diciamo che gioca anche un piano pod, come funziona Birding Ritual, guardatele, se controllate una creatura, triggera, guardate le prime sette, carte, prendete una creatura, dovete sacrificare, una creatura che costi, fate pod, fate che ha sacrificato un drop, a uno, per poter mettere, un drop a due, da queste sette, attenzione, è un po' diverso dalla pod, nel senso che è migliorata, che potete anche mettere, un drop pari, perché dice, manavaglio, X or less, from among cars, where X is, X plus one, la creatura sacrificata, la pod era scritta diversa, era, cerca qualcosa, che costa uno in più, questa è X or less, potete mettere, quindi potete anche sacrificare, un drop a uno, Greg Roller, per mettere, a un ride might, e questo è anche una cosa importante, detto questo, chiudo il video, ci vediamo al prossimo, fate i bravi, e niente, ci vediamo domenica, probabilmente, che appunto, c'è la pausa di sabato, e poi, facciamo anche il classico video domenicale, ciao ciao,